Ciao a tutti, sono Claudia, istruttrice origine danza, sono istrutture di girotinesis e di real ball fitness. Questa settimana, visto che siamo da poco durante le vacanze, abbiamo bisogno un po' di smarcire, facciamo un esercizio per lavorare la musculatura addominale. Cominciamo subito. Stiamo seduti sulla palla e compiamo quattro passi in avanti, uno, due, tre, quattro e quattro passi in dietro, uno, due, tre, quattro. Per aiutarci con l'equilibrio portiamo le braccia in avanti e le braccia ritornano sulla palla, con i quattro passi, quindi uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro. La cosa importante è che quando termine quattro passi in avanti sostenga bene la zona dei glutei, del bacino, con tutta la musculatura addominale, quindi uno, due, tre, quattro, il gluteo è parallelo alla terra, non è lasciato in questa maniera. e come due, uno, due, tre, quattro. La respirazione. Inspiriamo nel momento in cui siamo seduti sulla palla e espiriamo nei quattro passi avanti, quindi inspiro e quindi inspiro nel momento in cui mi sono seduta sulla palla e nel momento in cui il busto è parallelo alla terra. Espiro invece per la bocca nel momento in cui faccio quattro passi sia in avanti che in minuto. Detto questo, potete provare così l'arcito ripetendolo almeno dieci volte a casa per allenarlo tutto a tutti. Con questo vi saluto, ci vediamo prossimamente sempre che non vi chiede a tutti.